oh, ma dice qui, ma dai pronto, pronto pronto, ok, ok che facciamo, che facciamo che facciamo ma che ci facciamo come tre coglioni ma che ci facciamo come tre coglioni qua ma poi ci facciamo come tre picco come, come come, bene ok, va bene ok, sei buzi no, siamo buzi tutti e due sei buzi, fuori di testa, uno due due ingegnero due cdb cdf eeeh eeeh, faccio che non fanno fino a it eeeh sbarra su cai eeeh eeeh, bububu la pizza no, no bububu compra.it bella compa e poi stupore 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 ok, buonissimo stupore metaporicamente parlando Grazie a tutti.